Per cuore giallo-blu, guardia della PMS a Torino Marco Portannese Ah no, aspetta, c'è qualcosa che non va? Ah sì, forse è sbagliato, due anni fa adesso guardia di Capodorlando Marco, rientri a Torino, 5.000 persone, 4.000 per salutare te forse poi c'è, è vero che c'era anche Basile, altra gente, però qui hai lasciato un buon ricordo, tu subito invece di portare i pasticcini hai portato 18 punti dopo un tempo, grazie Marco Non è vero, non è vero, allora l'ho lasciato Torino che c'erano 1.200 persone a vedere noi adesso l'ho ritrovata con il palasetto strapieno e sono contentissimo per voi per l'ambiente che sta crescendo, è stato strano tornare, io ci tenevo a vincere alla fine abbiamo portato a casa la partita spero che continueremo come nell'ultima gara che siamo in una striscia vincente e spero che anche voi continuate a riprendere a vincere Non puoi lamentarti sull'ospitalità piemontese perché te ne vai anche con i due punti quindi su questo te ne vai a casa con un altruore bel ricordo Verissimo, voi mi siete rimasti nel cuore per come mi avete accolto per tutta la stagione, per il tifo che avete, per i rude boys ho lasciato degli amici e sono contento che quando torno ogni volta mi accolgono con questo calore Era facile applaudirti prima, era più difficile applaudirti dopo ma c'è stato lo stesso? Come no, non me l'aspettavo, pensavo che fossi un po' arrabbiato invece c'è stato il grido degli ultra che mi ha riempito di gioia nonostante tutto c'è sportività, sono contentissimo In attesa di renderti il favore alla partita di ritorno io ti faccio un grande in bocca al lupo, complimenti e buon proseguimento Grazie a voi, ciao a tutti, un abbraccio Grazie a tutti